Non ha fatto una bistecca! Stai a fare il faraglione de Capri, stai a fare, tiè! Vado! Preso! Ragazzi, non fatelo, non fatelo mai! Vedete ragazzi, vi dicevo, una parete di questa cella frigo è la montagna. Qui è la roccia. Praticamente fai la frullatura nella roccia, vai! Amici, ribbracciami ancora! Allora, guardate, questo è il Vesuvio, qui c'è il mare. Qua ci dovrebbe stare Salerno, là dietro ci dovrebbe stare Napoli, sono in Campania, sono in località Corbara, perché siamo venuti a trovare un ristorante carnivoro molto singolare, che a me piace molto. Però prima il proprietario del ristorante, Angelo, mi ha detto Michele, ti devo far vedere la cella di ultima generazione con la quale stagiono i miei salumi. Dice, vieni su in cima al monte e poi mi cerchi, mi ha dato le indicazioni. Dice, quando trovi una colonia di cani, eccoli là, sei arrivato, scendi tra le vigne e troverai la cella frigo di ultima generazione. Andiamo! Angelo, è lui? Siamo arrivati? Lui è Angelo, ragazzi, il proprietario di Micarro, che è una braceria molto bella. Però prima di andare alla braceria, come detto, andiamo a vedere il cavo. Siete pronti a vedere una cella frigo di ultima generazione che permette una stagionatura pazzesca dei salumi? E seguiteci. Tiè. Ma dove vi porta, abbracciami ancora? Dove vi porto? Le cose che piacciono a noi? Quelle ruspanti originali? Quelle dove affumichiamo e stagioniamo i nostri salumi, le nostre produzioni. Ma la cosa particolare, che vi faccio vedere, è anche il panorama. Ah, sì? Sì, sì. Vai. Stagionatura con vista. Allora, Angelo caro, adesso facciamo una piccola visita guidata tra questi salumi. Partendo da questo qua. Allora, qui che ci abbiamo incartato? Questa è una coppa. La coppa? Quanta quant'è che sta qui? Da 40 giorni. Quando riterrete che sia pronta, la portate giù al locale. Perfetto. Quindi i clienti del tuo ristorante si mangiano questa roba. Questo è il guanciale. Oh, bello guanciale questo qua. Favamo con carti questo muo porta a Roma che paga a carbonare. Perfetto. La vedete questa muffetta bianca? La vedi questa qua? Questa vuol dire che qui c'è stato un microclima pazzesco. Qui vuol dire che avete trovato proprio la quadratura per fare una stagionatura che sarà unica al mondo. Pancia tesa. Pancia tesa, ok. Vogliamo far vedere come li affumicate. A che serve questo? E a che serve? Serve per affumicare. Perché qua ci metti i melegnieri. Un po' di erbe spontanee. Dai, vai, facciamo un affumicare al volo proprio. Allora, ragazzi, la cosa bella di questi procedimenti sapete qual è? che non può esistere un processo industriale di questa roba. Cioè, se volete questi salumi che sono unici del suo genere dovete andare nel vostro ristorante. Adesso aggiungiamo limone, arancio e un po' di olivo. Inequivocabili segni, ragazzi, che abbiamo dato inizio all'affumicatura. E che io mi sono scordato di pigliare il guanciale mio. Devo, devo rientrare. 3, 2, 1. Ma trovi, che cazzo. Puttana, la. Puttana, non è assoluta nulla. Eccolo qua. Guarda, guarda, guarda. Vado, preso. Ragazzi, non fatelo, non fatelo mai. Questo viene a Roma con me, eh. Grazie, Angelo. Ora possiamo andare al ristorante. Parlami di questo Micarrò dal 1953. Braceria. Sì, sì. Corbara, provincia di Salerno. Di un po', di un po'. Papà sta dal 78. Ok. Noi siamo la quarta generazione. Tu fratello e tu sorella, giusto? Sì, sì. Fa pasta ancora con noi. Mi pare giusto. E quindi siamo tutti quanti lì al Micarrò. Dove vi aspettiamo. Ragazzi, vedrete che bel ristorante. Che ha una particolarità. Praticamente è scavato nella roccia. Sì, sì. Tutto nella roccia. Tutto naturale. Con una vista pazzesca. Giacomo, scusa. In questa macchina ho visto che manca l'arbre magic. Se puoi provvedere, grazie. Puoi provvedere, provvedi all'arbre magic, grazie. Questo, ragazzi, è l'ingresso del ristorante. Qua sotto vi lascio l'indirizzo. Comunque Micarrò Corbara ce ne sta solo uno. Entriamo. Ecco, tiè. Beccate qua. Via, esterna, chiunzi. Così manca la scritta, vedo me. Tanto lo riconoscete perché è tutta una ruota gialla. Siamo sulla strada provinciale, che porta in costiera. Tu sei il fratello? Il fratello di Angelo. Ferdinando. Hai visto? Pucemo tutto. Ferdinando e gli amici Nando. Abbiamo visto il fuori. Ho capito. Tu sei quello che si occupa del vino. E ci sono due chicchette, ragazzi, che Ferdin qua vi voleva far vedere. Andiamo sotto, va. Ragà, questo posto, ve l'ho detto, è decisamente super. Dice, abbiamo una fontana. Ci facciamo uscire l'acqua? No. Che ci facciamo uscire? Il vino? Il vino. Quindi tu mi stai dicendo che io arrivo e c'è il vinello. Quest'oggi è capitato un braghetto rosè. Prendi, questo è il benvenuto del… Sì, come aperitivo. Il benvenuto del micarrote. Rosè perché il braghetto? Perché è più leggero, quindi si inizia con l'aperitivo un po' più tranquillo. Se io vengo qua e voglio la fontana e voglio fare il figo con gli amici miei… È nata nell'antichità per i passanti che passavano qua, tenevano sete e bevano acqua. Papà che è matto ha messo il vino. Adesso, per farla come si deve, mi prenoti e ti faccio trovare il vino. Se non me la prenoti, mi devi bussare il citofono e finita il vino. Ma non è tutto perché c'è un'altra cosetta, un'altra chicchetta sul vino e risaliamo su. Loro fanno il vino. Le migliori bottiglie le piazzano in una sorta di cella a frigo naturale, ok? Ricavata dalla montagna. Praticamente… Dove sta? Allora… Sembrano quei film dei controspionaggio, no? Dove tu spingi una mattonella e si apre… Ecco qua. Qua abbiamo un po' di riserva del vino nostro locale. Prendi quella buona amiche. Ok. Eccola qua. Questo è il vino vostro. Sì. Le bottiglie speciali. Dei nostri vigneti. Anche qui ragazzi, non ce ne hanno in quantità. Al di là di speciale, è vino che facciamo noi in cantina, quindi sappiamo cosa ci beviamo. Vino fatto con l'uva, si può dire? Sì, fatto con l'uva. Il vino si fa pure con l'uva? Ogni tanto sì. Ok. A giorni alterni però. Anche questo non è per tutti eh. Se volete il vino della Tana, chiamate Ferdinando. Dica Ferdinando, ce lo riservi, va bene? Tu lo riserviamo. Anche Whatsapp va bene eh. Ragazzi, il cavo dei salumi ve l'abbiamo fatto vedere. I due fratelli ve l'ho presentati. Come qui lavorano e gestiscono la cantina, il vino, ve l'ho fatto vedere. Direi che è ora di mangiare, ok? Perché alla fine siamo venuti qua per mangiare i bistecchi noi altri. Va bene, bene. Ok, ok. Che bello il vino, bello tutto. Ma boh, vediamo se ha bistecchi come la famo. Ho ripristinato per questo video una vecchia abitudine che facevo prima del Covid. Fare una storia su Instagram dove invito i fan di Bracemi ancora a mangiare tutti insieme, a condividere questo momento. Quindi se volete partecipare ragazzi ai nostri video, me lo dovete seguire su Instagram. E questo locale si appoggia alla montagna. Sì, è stata scavata man mano. È fantastico, stai dentro nella montagna stai. Se vuoi vedere ci piove. Eh sì, abbiamo visto, abbiamo visto, abbiamo visto. Perché è tutto naturale. Piovigina. Concentriamoci su questo punto del ristorante. Brace classica. Brace a vista da vent'anni. Quelle che preferisco, originali. E qua se cociano bistecchia rotta di collo. Ma adesso vi faccio vedere la cella a frigo che loro hanno realizzato. artigianalmente. E praticamente è ricavato una parete dalla montagna. Quindi Jack seguimi. Quando si entra e si esce nelle celle frigo bisogna essere veloci. Vi faccio vedere la carne che c'è dentro. Però la cosa fondamentale di quando apri un frigorifero dove stazionano i lombi è l'odore che deve essere neutro. Andiamo a fare la prova del naso. Andiamo dentro. Entra prima te che sei di casa. Entro pure io. Giacomo, com'è l'odore? Neutro. Neutro. Perfetto. Vedete ragazzi che vi dicevo. Una parete di questa cella a frigo è la montagna. Nella roccia. Praticamente fai la frullatura nella roccia. Divertente questa cosa. Cosa diversa, particolare. Che papà tanto ci teneva. Allora riusciamo. Questa è praticamente la selezione di carne che hai. Molto interessante. Usciamo e ci fai vedere quello che abbiamo organizzato e preparato per mangiare oggi. Va bene. Tu, Angelo, sei colui che seleziona le carni? Sì. Tutto il reparto carnivoro sta in mano a te. C'è un principio in base a quale selezioni le carni in un modo piuttosto che in un altro? Mi deve piacere la prima cosa. Ma le fai girare o c'è sempre le stesse? No, le faccio girare. Le fai girare. Quindi io posso venire a febbraio trovo una selezione, a maggio le trovo un'altra. Sì. In base alla settimana quando vado a selezionare, quello che mi piace quello fa io. Un po' come il pescato del giorno. Sì. Bello, mi piace. È un approccio che mi piace ragazzi. Non è facile avere questo approccio perché ci devi lavorare, ci devi stare presto. No. Un conto sarebbe chiamare il fornitore. Diciamo portami i soldi di lombi. A te ti piace diversificare. Questa è una roba ragazzi che non trovate in tutti i ristoranti. Lo trovate dove? Nei ristoranti dove c'è sta il proprietario che ci mette il cuore, ci mette la passione. Giusto? Ci metto il cuore. Esatto, ci metto il cuore. Ok? Aroma il cuore e qui è il cuore. Ok? Quindi, tu che ci fai a mangiare oggi? Allora, oggi facciamo quattro bistecche differenti. Un po' belle grosse. Sì. Fa che mi fai la fettinetta. Non ti preoccupare. Facciamo questo Black Angus Galiziano. Sì. Di 110 giorni. Questo qui. Poi facciamo il 2 nero. Sì. Irlandese. Sì. Poi facciamo una manzetta bavarese. Bene. E facciamo la nostra selezione micarrò che è il nostro punto di forza. Perfetto. Diamo sempre ai nostri clienti. Selezione micarrò che cos'è? E' la chicca praticamente del mese. Sì. Lui è una sorta di cacciatore di bistecche. Quando trova una roba che gli piace la piglia e la propone ai clienti. Sempre. Taglio qua, mannaio o qua sega? Mannaio e sega. Ok. Oggi? Mannaio. Oggi mannaio. Vediamo se è capace. Dai. Ragazzi volevo fare la menzione d'onore. No vai. Che fai? Scappi. Lui è Gerardo. Trovate lui alla griglia e trovate pure Angelo. Ma se la bistecca te la chiedono ben cotta. Tu che fai? Sembra la solita cottura. Sembra la solita cottura. Ci piace. Sembra il sangue. Bravo Gerardo. Grazie. Non ha affatto una bistecca. Stai a fare il faraglione de Capri stai a fare. Tiè. Questo è un 1,8 kg. Quant'è? Mica male. Metti un po'. Quanta è? Quanta è? Bene. Il primo bisteccone ragazzi. 1,9 kg. Grazie. Possiamo proseguire? Manzetta bavarese. Noi siamo sui 50 giorni. 50 giorni. E vai con l'altro faraglione. 1,5 kg. 2 nero irlandese. 1,5 kg. Black Angus Galiziano di 110 giorni. Oh, questa ragazzi è la bomba. Questa va mangiata per ultimo. Sì, sì. Oh, ve lo dico. Perché? Quella va mangiata per ultimo. Solo mi fai bravo. Perché è quella più frollata. Va bene? Queste sono le bistecche che ci mangeremo. Angelo, ridice che ci abbiamo. Qui? Black Angus Galiziano, 110 giorni. Perfetto. Costo al chilo? 75. 75. Questa? Manzetta bavarese. Sì. Costo al chilo? 60. Buenero irlandese. Buenero irlandese, perfetto. La nostra selezione Micarro. Sì. In una frisona. Benissimo. 50 al chilo. Ci sarà un ordine preciso con il quale andiamo a mangiare. Iniziamo dalla selezione Micarro perché è quella più soft, più entry level. Si prosegue poi per la bavarese. La terza sarà il Buenero e si chiude il gioco con il Black Angus spagnolo frollato oltre 100 giorni. Guarda, 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 vieni a vedere. Guarda che bravo Angelo ha messo le bistecche a riposare là sopra. Così si stemperano, non si cuociono. Fai una sorta di reverse, diciamo, vecchia maniera. Ok? Guarda là come suda. Tiè, regà, mamma mia. Aspetta, no. Datemi un guanto. Sono cinque minuti che sta sopra la brace. Il grassetto già sta sudando. Lo vedete? Lo vedete? Eccolo qua. Si inizia, ragazzi, con un taglierino dei salumi, ragazzi, che vi ho fatto vedere a inizio video. Ragazzi, questo è per farvi capire che cosa io mi sono fregato prima dalla... Questo lo possiamo servire anche come te sei. Sì. Poi te ne accorgi. Prima cosa che mangio e prima mortacci quanto è buono. Strapidoso. Allora questo, questo tagliere, va ai nostri amici. Sì. Io invece vado in cucina e vado a supervisionare i primi. E ho visto una cosa interessante che voglio assaggiare prima degli altri. Questa che è affumicata gliela possiamo portare. Ok. Questa, invece, volevo... Volevo battezzarla io qua dentro, ok? Se è geluca, non gliela diamo, non gliela diamo. No, la volevo battezzare lontano da occhi indiscreti. Che me la apri? Siamo per spaccare mozzarella di vacca di Jersey. Non è bufala. La caratteristica si somiglia un po', ma non è bufala. Fammi farmi amiche, va. Fammi farmi, va. Fammi farmi, va. Eccoci qua. Secondo mortacci quanto è buono di questo video. E si prosegua. Senti, quando qui in provincia di Talerno una cosa è molto buona, come dite? A Finluomund. Benissimo, grazie. Lui è Mario, è il papà di Angelo e di Ferdi. Au, dimmi tre motivi per cui uno deve venire qua. Il primo motivo è panoramico. Poi dopo il mangiare. Sì. Tutte casarecce, tutto a chilometro zero. Tutto, tutto. Galline, maiali. Cristiani, no, quelli no. Pomodori, oliva, olio, noce, limone, tutto di più. Bene. Broccoli, tutto ne facciamo. Soprattutto, io sono venuto per i broccoli. Tu non lo sai, ma noi siamo venuti per i broccoli. E poi la carne. Beh, hai messo su? Poi abbiamo la carne, poi il salome. Eh, ho visto. L'avete visto? Comunque facciamo cose tutti noi. Ragazzi, quello che Agnello, lo chef, ciao Agnello, grazie mille. Abbiamo fatto questa intrusione mentre stai preparando tutte, diciamo, le nostre privi. Queste sono proprio di spuntature, fatto con il loro maiale, cioè la sarsiccia fatta con cotica e interiora del maiale, spuntature e c'è il loro pomodoro e questa cantilla corta di Cragnano. Questi ragazzi sono i piatti che vanno ai nostri amici là fuori. Ma a me piace mangiare direttamente dalla pentola di Agnello. Allora, guardate qua, che meraviglia il mio zito. Oh, hai fatto carico, hai fatto eh. C'ha personalità eh. Mmm, questo te lo ricordi, te lo ricordi per tutta la vita, te lo ricordi. Bono. E siamo al terzo mortacci quanto è bono. Olè. Guarda qui che meraviglia ragazzi. Io sto entrando praticamente nel luogo sacro del ristorante in pieno servizio. Caro Angelo, ora tu ce la scaloppi. L'odore è molto basico, è quello che uno si aspetta dalla bistecca cotta alla brace. che non è quella roba potente frullata 110 giorni. Oh, che bella. Applausi, ci vuole applausi. Bravo ragazzi. Bravo, 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 bravo. Bella, 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 bella. Bellissima, bellissima, bellissima. Siamo ragazzi. Questo è il pezzetto mio. Allora, la cosa bella, sai qual è? Praticamente il tavolo accanto a noi è in atto, è in atto una promessa di matrimonio. Quindi sono tutti carini, tutti vestiti eleganti, tutti che mangiano in maniera formale. E qui ci siamo noi, barbari. E qui ci siamo noi che mangiamo con le mani. Questa carne? No, può solo Michele. Voto sette e mezzo. La cultura è ottima, è una entry level per essere una prima bistecca, è una prima bistecca di altissima qualità. È un ottimo inizio. Quarto, mortacci quanto è buono. Manzetta bavarese, seconda carne della nostra esperienza. Vai, la manzetta bavarese ragazzi, assaggiamola. Ole, buon appetito. Vediamo un po' come va. Questa è già un pochino più complessa rispetto alla prima. Questa è già più strutturata, esatto. Terza bistecca, bue nero irlandese. Vai. Terza bistecca ragazzi, costata di bue nero. Vediamo un po'. Questa delle tre è la più elegante e la più raffinata. Siamo proprio su un altro pianeta qua, rispetto alle due di prima. Anche la più tenera. Questa ha molta nobiltà. Questa me ne potrei mangiare 6 kg. Molto piacciona. Assaggiamo, vai ragazzi. Anche questa è mortacci quanto è buona. Anche questa. Ed eccola. Battute e conclusive. Questa è la quarta bistecca. Questo è il buo galiziano che ha frullato 110 giorni. 110 giorni. Ha un odore sicuramente diverso dalle altre, ok? Molto più intenso. Ha un'intensità pazzesca. Questa ragazzi è una bistecca di alto livello. Non è una bistecca per tutti, io lo ripeto fino alla noia. Vai, ti seguiamo. Scaloppacela. Questo ragazzi secondo me è un fuori concorso. Questa è una... Ci dà il montaggio. Secondo me queste, queste caratteristiche che lo mettono fuori. Si è come il bacio della buonanotte. Eh, secondo me si. Dopo questa possiamo andare tutti. Secondo me. L'odore è intenso. Anche per intenderci c'ha un richiamo soft di gorgonzola, ma in accezione positiva. La frullatura gli ha dato la spinta in un'altra dimensione. A me personalmente piace, però mi rendo conto che è una bistecca per palati adulti e maturi. Cioè io questa a mio figlio di 12 anni non gliela darei mai. Gli darei però le altre tre, eh. Molto volentieri. La frullatura è perfetta, bella, complessa. Wow. Bravo. Grande Angelo. Bravo. 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 Allora, Angelo Caro, vediamo un attimo. I nostri amici hanno votato, così vediamo qual è la carne preferita. Allora il black angus, che era quello frullato bavarese. Black angus era questo. Il bue. E poi il bue. Allora a questi ragazzi ci metto pure il mio di voto. Il bue nero. Insomma ragazzi, alla fine della fiera il bue nero è quello che avete apprezzato di più. E mi unisco al coro, perché anche a me è piaciuto tanto. Anche a me piace tanto. Le altre tre eccellenti, ma il bue nero aveva quella cosa in più. Complimenti, bravo. Oh, grazie ragazzi. Grazie per l'enorme sacrificio che avete fatto. È stata una grande faticata per loro. Ora dovranno tornare a casa e indovinare tutte le curve, ok? Senti. Ti volevo fare i complimenti. Tu sei la mamma di tutta la... La mamma di Micarro. Brava. Grazie. I tuoi figli e tuo marito fanno un gran lavoro. Scommetto che c'è pure lo zampino tuo dietro. Si male. E che zampino, lo zampone. Grazie. Grazie mille. È stata un'esperienza bellissima. Grazie, grazie. Grazie a voi veramente di cuore. Grazie, grazie. Oh, io torno eh. La telecamera è spenta e mi torna. Lo aspettiamo. Vai. Ragazzi, il video termina qua. L'esperienza è stata molto bella. Il locale merita. Venitelo a trovare. Mi è piaciuto tantissimo l'approccio molto casalingo, pieno di passione che ci mette questa famiglia, che ci mettono questi ragazzi. Giro tanti locali. Non in tutti trovo la stessa passione, lo stesso attaccamento ai prodotti della terra, alla cucina, al proprio ristorante e alla dedizione che hanno nei confronti dei clienti. veniteli a trovare. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che questo ristorante vi abbia regalato delle emozioni. Un abbraccio e un abbraccio sia con voi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.